Le mani di Sergio tremano ancora dallo shock e dal gelo quando ci mostra l'ultima foto scattata in città insieme ad Angelo, suo compagno di stenti e dell'emosina, deceduto nella notte di giovedì all'interno di uno dei box abbandonati del mercatone. Sergio, Angelo e Virginio, l'anziano cittadino rumeno, spesso dividevano lo stesso giaciglio per sfuggire alla morsa del gelo. Angelo, malato e in preda a freddo, poteva essere salvato, ribadisce ancora visibilmente scosso Sergio. Mi dispiace e l'ho perso, eravamo grandi amici. Cosa ti manca di lui? L'affetto. Perché dormivate insieme? Sì, l'affetto, l'amicizia, le chiacchie, questo. È stato un ragazzo di buono cuore. È vero che cercava un po' di... le emozioni, una volta io l'ho aiutato a mangiare, lui non voleva quasi mangiare, voleva solo un po' di vino, cosa. Più di tanto. Si poteva salvare. Si poteva salvare, si poteva salvare. Le ultime parole che ti ha detto? Ha detto, sì, io fumammoci una sigaretta, poi ce ne dicono mia cucca, queste sono le parole napoletane. Dissi, vabbè, qual è il problema, ci vediamo domani mattina con la luce del sole. E purtroppo... Purtroppo sono andato là, l'ho trovato che non dava segno di vita. Può essere morto di freddo, di genere? Sì, sì, già forse da due o tre ore che era morto. Di freddo? Sì, sì, di freddo, di freddo. Forse anche la sua malattia. Stava a ghiacciare, stava a ghiacciare. Stava a ghiacciare. Sì, sì. Senti, si dice che qualcuno ha detto che praticamente erano venuti i vigili urbani a cercarvi, non vi hanno trovato, è vero questo? Questo io non lo so, questo non lo so. Ma tu non l'hai mai visto? No, 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 io i vigili urbani l'ho visto solo qua, loro lo sapevano che sono in giro a fare il parcheggio. Non l'hanno visto mai nessuno? No, 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 tempo fa no, non l'hanno mai visto nessuno. Ma il comune sapeva che voi dormivate là, no? Penso che sì, penso che sì che lo sapeva, perché l'altra volta abbiamo fatto l'appello. Qual è il tuo ultimo saluto al tuo compagno? Faccio un grandissimo ricordo a Angelo Lazzaro, che purtroppo ormai sta nel mondo delle verità, che sia bene. Hai detto che non devono succedere più? No, no, queste cose qua mai più, perché ormai è andata. Tu e Angelo dove dormivate prima di rifugiarvi nel mercatone? L'Elisee, poi ci hanno chiuso là, me ne sono andato nella struttura, ce ne siamo andati nella struttura qua, che stavamo più caldi, ci hanno sfrattato là, purtroppo. Dove, quale struttura? Quella a Piazza Macella, ci siamo messi a dormire. Ah, è uno sfrattato? Sì. Quindi sapevano al comune della vostra condizione? Eh, là ci stava caldo, perché ci stava caldo. Nel casotto? Sì, sì. Ci hanno sfrattato? Sì. I vigili urbani? Sì, sì. Quindi sapevano che voi dormivate? Poi da là ce ne siamo andati giù al mercatone. E al mercatone non avete visto mai nessuno? No, no, ci stava solo qualcuno che ci veniva a trovare, qualche... Qualche volontario? Sì. E il comune sapeva che voi stavate a dormire? Sì, penso che sì, lo sapeva, sapevo, perché qualcuno mi domandava dove sono mercatone, sapevo che sono mercatone, sa che sono mercatone, così. Secondo te il comune c'è la responsabilità sulla morte del tuo amico? Penso che sì, penso proprio di sì. Perché quando abbiamo fatto l'appello... Nessuno vi ha... Già aiutato.